Il segreto trame al 7 aprile, Anna muore, Prudencio omicida, Laurearte scompare Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Cancelletto Il segreto, la sop-opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato Francesca metterà a Saul alla prova. . In questo articolo leggerete le trame settimanali trasmesse da martedì 3 a sabato 7 aprile. Anticipazioni Il segreto, Prudencio uccide Anna Le anticipazioni delle puntate del segreto trasmesse dal 3 al 7 aprile 2018 svelano che donna Francesca architetterà insieme a Prudencio l'incendio al villaggio occupato dagli abusivi. Intanto Giulietta Uriarte si recherà con Saul Ortega a compare delle medicine per sua figlia rimasta febbricitante nella catapecchia, occupata insieme a sua nonna. L'incendio avrà drammatiche conseguenze. Infatti la figlia di Giulietta morirà arsa tra le fiamme per colpa di Prudencio e Mauricio. A proposito il primo genito dell'Ortega sarà vinto dai sensi di colpa nei confronti di Anna, mentre la madre sembrerà perdere il lume della ragione. La Montenegro temerà che Prudencio possa confessare da un minuto ad un altro di aver provocato la morte di un innocente, mentre Camila confesserà a Nicolà di aspettare un bebè. Intanto Prudencio riuscirà a tenere la bocca chiusa con suo fratello Saul, mentre Mauricio sarà talmente addolorato, tanto che la Montenegro lo rimprovererà aspramente. Infine Nicolà dovrà desistere a confessare il suo amore alla Valdesalce, in quanto incinta di suo marito Ernando. Il segreto Puntate 3704, Giulietta scompare Giulietta sconvolta dal dolore della perdita della figlia, farà perdere le sue tracce, facendo preoccupare moltissimo Saul. A proposito il giovane si precipiterà nel bosco in cerca della ragazza, mentre a Puente Viegio si organizzeranno i funerali della piccina, volata in cielo troppo presto. Giulietta Uriarte non interverrà al solenne addio a sua figlia Anna, ma sarà ritrovata da Erminia tra i resti della baracca bruciata in stato di shock. Intanto Ortono aiuterà il fratello Ortega a trovare Giulietta, ancora nascosta nella casa, intrisa di ricordi della sua bambina. Adela intenderà denunciare la scomparsa di Giulietta alle guardie civili, mentre Dolores si scontrerà con Don Berendario per l'organizzazione del pellegrinaggio all'Urdes. Infine la strana amicizia tra Beatrizia e Aquilino provocherà uno scandalo nel paesello iberico, se quest'ultimo negasse qualunque coinvolgimento amoroso alla Valdesalce. Per altre anticipazioni su Il Segreto vi basterà seguire su Blasting News. Il Segreto. 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 Grazie a tutti.